Carissimi amici e argonauti lungo le vie della conoscenza e dello spirito, ben ritrovati sul nostro canale YouTube, su un fuoco sacro. L'argomento del dialogo odierno è l'abate iulio e i salmi in latino. Ora, perché nasce questo dialogo? Circa un annetto fa mi sono cimentato in una nuova traduzione di quello che è il patrimonio operativo con salmi e pantacoli dell'abate iulio. Un patrimonio operativo che trovava combinazione in questi due strumenti. Quindi l'uno, il pantacolo figurativo, rappresentativo e inclusivo di un determinato potere, mentre il salmo era ed investe tutta quella sfera legata alla parola, al verbo, ad una manifestazione individuale di potenza tramite uno strumento che in genere il salmo, appunto, viene associato alla preghiera, viene individuato all'interno dell'ambito religioso. Ora, in questa mia traduzione nuova, una traduzione non lineare ma comunque integrata di note esplicative, di osservazioni, di osservanze e fedele a quello che era il testo originale, ho accluso, mi è sembrato di fare una cosa buona e giusta, ho accluso un libro dei salmi in latino e in particolare il libro dei salmi raccolto nella clementina, che a sua volta è un salterio che deriva dal vecchio salterio gallicano. Mi è stato chiesto, ah, ma come? Ma perché il libro dei salmi in latino? Adesso per me tutto ciò è inutilizzabile. Ora, a prescindere che fondamentalmente era anche stato indicato che c'era questa inclusione del libro dei salmi in latino, vorrei spendere alcune osservazioni a carattere generale e a carattere operativo. Allora, iniziamo con quelle a carattere generale. Se vi trovate un salmo in latino e fondamentalmente in latino non è la vostra materia prediletta come non è la mia materia prediletta, potete sempre, avendo ben a mente di quale salterio si tratti, e quindi qui della clementina, andare a cercare il corrispondente in lingua volgare. Fermo restando che, come voi ben sapete o come voi dovreste ben sapere, in lingua volgare esistono varie traduzioni, alcune fedeli alla forma, altre che invece hanno cercato di ricalcare la sostanza del salmo, altre ancora che hanno rivisitato la traduzione in un'ottica di una coesione interna al libro dei salmi in lingua volgare e all'interno invece di tutto l'apparato dei testi canonici. Ovviamente, quindi, ci sono anche tutta una serie di influenze culturali e o, diciamolo chiaramente, politiche o di prospettiva dell'autore che ha compiuto queste traduzioni. Però, mettiamola in maniera semplice, se noi abbiamo in mano un libro dei salmi della clementina, del testo gallicano, dobbiamo andare a ricercare quelle traduzioni che nascono proprio da questo testo in latino e, fondamentalmente, che quindi riportano la stessa elencazione, la stessa numerazione dei vari salmi, perché voi sapete benissimo che ci sono dei salteri che hanno una determinata numerazione, altri che ne hanno altra, alcuni hanno 150 e altri 151 salmi. Quindi è richiesta una benché minima attenzione e io vi posso dire che ne ho viste di cotte e di crude, ho visto persone che fondamentalmente, non conoscendo questo tratto elementare dei salmi, sono andate a prendere delle traduzioni che già a senso visivo avevano a che fare col testo, col salmo in oggetto. Io in genere ricordo alla doppia numerazione, per esempio il salmo 90, 91. Ora, quindi, discorso in generale qual è? Prima di utilizzare un qualsiasi strumento, sarebbe bene, un strumento in questo caso, diciamo, magico, spirituale, operativo, sarebbe bene avere una cognizione di causa attorno alla storia di questo elemento. E questo perché comunque bisogna sempre erudirci, bisogna sempre formarci, bisogna sempre informarci attorno a quelli che sono gli utensili della nostra opera. Terminate le osservazioni a carattere generale, su cui ricade anche poi drammaticamente la pigrizia, andiamo adesso ad alcune osservazioni di carattere specifico operativo. Perché i salmi in latino? Beh, allora, rimanendo contestualizzati sull'abate Julio, perché lui utilizzava questi salmi? Certamente, essendo francese non utilizzava i salmi in lingua corrente italiana, e sicuramente, essendo un uomo di religione, perché l'abate Julio era un uomo di religione, lui utilizzava il salterio in uso, in uso all'interno del perimetro religioso del tempo. E il salterio nel perimetro religioso del tempo era proprio questo di cui si sta parlando. Che, per inciso, è fondamentalmente il salterio tradizionale di tutta una serie di strutturazioni iniziatiche e operative tuttora esistenti. Quindi, alla prima risposta è perché, dato che tu vuoi utilizzare degli strumenti, pantacolo e salmi, che utilizzava l'abate Julio per le tue finalità, allora devi necessariamente essere quanto più fedele possibile all'impalcatura dell'abate Julio, che era questa, certamente non in italiano. Due, fondamentalmente, per lunga vita della Chiesa cattolica romana, il salterio, così come la Bibbia ufficiale, era in latino. Quindi voi dovete tenere presente che si sta parlando di uno strumento che, per almeno 1700 anni, è stato caricato energeticamente, attraverso la ripetizione sia di uomini di Chiesa, sia di fedeli, sia all'interno di strutture iniziatiche, operative, e sia alla disposizione di tutta quella tradizione magica sull'uso dei salmi popolare. Due, altra osservazione, tre, scusatemi, altra osservazione. Il fatto di utilizzare fondamentalmente i salmi in latino ci porta a compiere anche uno sforzo da parte nostra teso ad una comprensione del testo, non più attraverso il senso, il percetto che noi diamo alla parola, ma proprio perché non è la nostra lingua corrente, attraverso tutta un'associazione di immagini. È per questo che io consiglio sempre, prima di utilizzare un salmo, un qualsiasi salmo, sia all'interno di una pratica meditativa, sia all'interno di una pratica rituale più elaborata, quello di andarsi a vedere la traduzione in italiano, comprenderne il contesto, andare a ricercarne tutta una serie di significati storici e simbolici, e poi, dato che abbiamo la fortuna della recita in latino, mentre noi recitiamo, mentre la nostra mente è impegnata in questa lettura apparentemente ostica, apparentemente aliena, la nostra immaginazione è protesa invece a creare un fitto reticolo di immagini. Questo è fondamentalmente sul perché, quindi perché lui li utilizzava, perché fondamentalmente sono stati caricati da almeno 1700 anni, perché fondamentalmente tutta una serie di strutture iniziatiche ancora oggi utilizzano o dovrebbero utilizzare quel santerio lì, e perché fondamentalmente da parte nostra è richiesto sia uno sforzo, ma è richiesto anche l'indubbio utilità di attivare l'immaginazione. Detto questo, torniamo un attimino però adesso a ad un argomento forse più interessante. Quando, come e perché utilizzare questi salmi associati ai pantacoli? Allora, premetto una parentesi tonda, le iscrizioni che trovate sui vari pantacoli in uso presso l'abate Giulio e presso le persone del suo entourage, che è un numero variabile di pantacoli, non sono in latino, sono in un alfabeto proprio, attraverso cui l'abate Giulio riteneva che potessero essere catalizzate delle energie, delle intelligenze particolari associate al quadro rappresentativo inscritto all'interno di queste lettere, di questo alfabeto particolare, che comunque io riporto nel libro. Bene, terminata questa piccola parentesi, torniamo un pochettino a come, quando e perché. Allora, a mio avviso c'è un errore di fondo. Si ricorre all'utilizzo del salmo in chiave magica nel momento dell'estremo bisogno. E spesso e volentieri la maggior parte delle persone che ricorre all'uso del salmo sono persone completamente strane a questi strumenti. Un po' come fondamentalmente a un certo punto sono all'interno di un'abitazione in un bosco, ho bisogno di legna per il cammino, non ho mai tagliato o segato un albero, non sono mai stato a procurarmi legna, è prendo un'ascia e se mi va bene fondamentalmente torno a casa con un mal di schiena. Se mi va male torno a casa senza un braccio, senza una mano oppure schiacciato dall'albero stesso. Quindi anche nell'utilizzo del salmo, anche nella pratica rituale, è sempre necessaria una gradualità, una operatività che non sia sporadica ma che trovi una cadenza costante. Per esempio nella pratica martinista l'utilizzo dei salmi a cadenza giornaliera, ovviamente in determinate realtà martiniste. Questo comporta una predisposizione all'utilizzo dello strumento, comporta l'acquisizione di una sensibilità all'utilizzo dello strumento, comporta una padronanza delle intonazioni perché intelligentemente comprendiamo che fondamentalmente questi salmi, questi 100-151 salmi afferiscano ad una gamma molto estesa di sentimenti, di emozioni, di richieste, di preghiere, di invocazione e di evocazioni e che quindi debbano essere animati anche da una voce, da una tonalità particolare. Non è possibile utilizzare sempre una meccanica e piatta interpretazione dei medesimi perché non funziona sicuramente a questo modo. Inoltre essere mossi dal bisogno, essere mossi dall'accidente, essere mossi dalla contingenza non è mai proficuo perché è il latrato del debole ed essendo la magia un atto di assoluta potenza, questa mal si accompagna con invece il lamento del debole, il lamento del bisognoso. Quindi bisognerebbe anche avere la prontezza di riflessi, la capacità di comprendere che forse è meglio prevenire piuttosto che ritrovarsi in una determinata situazione. E al contempo è sempre ottimo chiedersi, ma io fondamentalmente sono adeguato a utilizzare questo strumento? Perché questo? Bene, perché i requisiti che fondamentalmente l'abate Giulio infondeva in se stesso e nelle persone che a lui strettamente collegate, che operavano in maniera apparentemente miracolosa con questo strumento, erano quelli comunque di base di essere un credente, di base di essere un fedele, di base fondamentalmente di riconoscere un potere reale nei salmi e un potere particolare in questi pantacoli, che lui sosteneva di essere potentissimi, addirittura più potenti della croce stessa, perché a suo dire nei piani più tenebrosi sussistevano delle potenze, degli enti che erano completamente indifferenti alla croce stessa, perché afferivano a un qualche cosa di più antico, di più profondo, e quindi solamente attraverso questi pantacoli si poteva in qualche modo porre ordine, porsi in protezione e in difesa da queste entità. Quindi, come vedete, è un po' più articolato il discorso, anche perché l'abate Giulio, come ho detto, era un uomo di religione, era un sacerdote, aveva avuto un'ordinazione e attraverso lui altri sacerdoti, ovviamente del circuito, dell'insieme, dell'arcipelago, delle piccole chiese, delle chiese scismatiche, dei vescovi erranti, hanno mille modi per denominarsi, ma però comunque erano sacerdoti, erano uomini che ufficiavano un rito, ufficiavano un messale, che comunque erano devoti a un servizio, a un culto del divino, a un culto di Dio, al culto del Dio cristiano, nello specifico, che ovviamente veniva interpretato questo culto e tutta la fede da parte dell'abate Giulio e delle persone a lui prossime in maniera ovviamente di forme rispetto a quello della chiesa cattolica o di altre strutturazioni. Ma l'elemento di base era la fede, l'elemento di base era il credere di agire non in guisa di un proprio potere, ma in virtù di un potere che era stato demandato. Quindi, per cercare anche in qualche modo di tirare la conclusione di questo dialogo, quando noi affrontiamo lo strumento, tutti gli strumenti in generale, ma lo strumento dei salmi in particolare, bisogna ricordarsi che fondamentalmente questo non è un feticcio, non è uno strumento inerte che si presta alla manovalanza, alla manipolazione di ciascuno, a prescindere delle proprie caratteristiche psichiche, inclinazioni spirituali e quant'altro. Ma è specifico ed è riservato solamente a coloro che, come humus, come background culturale, comunque risiedano all'interno della tradizione giugdaico-cristiana con le sue mille interpretazioni che ad essa possiamo dare e che comunque sono fondamentalmente edotti alla immensa varietà di questo strumento che oscilla dalla preghiera, dall'invocazione, dall'evocazione, dalla formula imperativa al rito di bando e che comunque sono inseriti all'interno di un contesto prettamente sacerdotale. Ecco quindi, attenzione, perché se no ad una situazione di disagio, reale o presunto che sia, andiamo ad aggiungere nel modo, nel caso migliore della frustrazione, della perdita di tempo, nel caso peggiore tutta una serie di rovesci che potrebbero incorrere degli sproveduti. Quindi attenzione e a presto ritrovarci.